Anche oggi in giunta l'assessore Belloni, in condivisione ci siamo confrontati giorni scorsi, è stata presentata la delibera dove appunto nelle zone ZTL diamo un ulteriore aiuto a tutte quelle imprese che devono fare consegne a domicilio o da asporto e quindi potranno avere il permesso tramite i vigili urbani gratuitamente per tutto il periodo che hanno le restrizioni dovute al DPCM. Grazie.